Cari e cari amici di Lugano My City, oggi parliamo di patriziati, una realtà fondamentale per la conservazione del patrimonio culturale, socio-economico e paesaggistico locale. Pensate a Lugano ci sono 15 diversi patriziati che collaborano con l'ente pubblico per la valorizzazione del 70% del territorio cittadino. I patriziati sono una realtà forse meno conosciuta dalle nuove generazioni, la città di Lugano ha quindi deciso di dedicare loro un intervento, Patriziamo, appuntamento giunto nel 2023 alla sua quarta edizione, l'evento avrà luogo dal 29 settembre al 1 ottobre nel patio di Palazzo Civico durante la festa d'autunno. Oggi ci ha raggiunti in studio per presentare quest'iniziativa Valentina Campana, una giovane patrizia di Cimadera. Ciao Valentina, ti chiedo innanzitutto che cosa sono i patriziati? I patriziati sono degli enti autonomi pubblici riconosciuti dal Consiglio di Stato, formati generalmente dai patrizi che sono persone originarie di un dato paese. I patriziati si occupano di gestire e conservare i propri beni, sempre messi all'uso comunque della comunità e anche di gestire e conservare le tradizioni locali. Ecco, chi sono i patrizi per esempio a Cimadera? A Cimadera ci sono circa 120 abitanti e più di 300 patrizi che però per la maggior parte abitano fuori comune, anche in Svizzera tedesca o francese. E invece che cos'è Patriziamo? Patriziamo è un evento proposto dalla città di Lugano all'interno della festa d'autunno che permette ai patriziati di presentarsi e interagire con le persone. Con quali attività? Chi si presenta semplicemente, chi porta magari dei prodotti nelle Alpi o comunque da persone, gruppi di patrizi per magari anche presentarsi, lasciare una buona impressione a chi viene a visitarci. Grazie mille Valentina, allora ci vediamo a Patriziamo. Certamente. Grazie a tutti, a presto.